in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Unisciti a noi. Il mio studio questa sera ritorna dopo insomma tanto tempo e mi fa piacere riavere qui Antonio Cortese. Ciao Antonio, ben ritrovato. Grazie mille, buonasera a tutti. Sì, ritorno dopo qualche tempo e dopo qualche impresa, tra virgolette, ciclistica. E soprattutto di questo vogliamo parlare perché tu sei un grande sportivo, tu porti alto il nome del ciclismo e anche di risultati molto significativi dei quali parlerai qui con noi questa sera. Perché come hai detto, noi ci siamo visti prima della pandemia, quindi un certo tempo è passato e ci siamo lasciati da parte tua con una promessa, insomma un progetto, quello di raggiungere un risultato importante. Quindi com'è andata? Raccontaci un po'. Ma è andata bene, nel senso che il progetto prevedeva un po' il chiudere il cerchio per quel che riguarda le salite del pirata. Quindi questo progetto appunto, visto con gli amici Simonetti e Lorenzon, che sono due giornalisti con cui ho collaborato e con cui è stato creato questo progetto, è stato messo in piedi, c'è quello di ripercorrere tutte le tappe più importanti del Giro d'Italia e del Tour de France di Marco Pantani. Il pirata, ben appunto, come l'hai nominato poco fa. Perfetto, per cui il Giro d'Italia è stato messo nel cassetto, nel senso che è stato conquistato, bisognava andare in Francia, in terra di Francia. Per cui così abbiamo fatto e così è stato. E com'è andata? Che cosa è successo? C'è qualche momento che vuoi ricordare e condividere con gli amici a casa? Sì, volentieri. Fondamentalmente, allora, diciamo che arrivavamo da un periodo di lockdown. La pandemia ormai è diventata un qualcosa che spaventa, ci ha spaventato molto all'inizio appunto del 2020, dell'anno scorso. Quindi è rimasta in dubbio questa trasferta fino all'ultimo momento. Abbiamo avuto questa finestra utile ad agosto, quindi tra luglio e agosto, ne abbiamo approfittato e con l'amico Alberto appunto siamo andati in Francia e tra le varie vette, le varie tappe, mi piace ricordare la scalata al Col du Galibier, a 2600 metri circa. Tra l'altro, durante una giornata da vera tregenda, c'erano due gradi in vetta. Aveva nevicato la giornata precedente, quindi anche lì pensavamo di non riuscire. Abbiamo fatto in tempo ad arrivare in cima, fare le foto di rito e scendere, perché si stava guastando ancora pericolosamente il tempo. Poi l'Alpe Duez, che è la salita con 21 tornanti che ricorda il nostro mitico Stelvio, in Valtellina, dove questi tornanti appunto sono dedicati ai ciclisti che hanno conquistato la tappa e la salita stessa. Il Mont Ventoux, la salita per eccellenza del Tour de France, il Monte Ventoso, come lo chiamiamo noi, dove alla fine, gli ultimi chilometri, si entra in questa pietraia, con questo paesaggio lunare battuto dal vento, dove Pantani poi riuscì a battere anche Armstrong appunto nella tappa di Tour de France. Quindi sei soddisfatto per questo intanto racconto incredibile, ma soprattutto per il risultato ottenuto? Sì, molto soddisfatto. Era veramente un obiettivo a cui ci si guardava e ci tenevo in modo particolare. Questo per ricordare ovviamente il campione che è stato Marco Pantani e quindi per dedicarlo anche a Tonina Pantani, che è sua madre, con cui poi ho condiviso questa mia impresa. Abbiamo anche delle immagini che sono passate poco fa, la Ligia ci le ha mandate. Sì, dove si vedeva appunto il Mont Ventoux, l'Alpe d'Uez e le varie scalate che sono state affrontate. Antonio, tu sei anche free ambassador del Museo del Ghisallo, perché ovviamente un ciclista, un grande appassionato, non può che avere nel cuore questo museo, lo sappiamo bene. E c'è un pezzo di quello che tu hai portato con te, è vero? È vero. Allora, durante la scalata al Mont Ventoux, la salita per eccellenza appunto del Tour de France, in accordo con il presidentissimo Antonio Molteni e Carlo Gentilini del Museo del Ghisallo... Che salutiamo! Che salutiamo, ovviamente, caramente. È stato deciso di portare questa borraccia alla stele di Tom Simpson. questo sfortunato ciclista nel 67, quindi parecchi anni fa, purtroppo morì durante la scalata di questa cima per mancanza di rifornimenti, per mancanza di acqua e quindi in una sorta di... Abbiamo ora l'immagine, approfitto per sottolinearlo. Quella è la stele, si vede molto bene, con la borraccia appunto donata dal Ghisallo, con la maglia del Ghisallo evidentemente, dicevo, in una sorta di pellegrinaggio tutti i ciclisti quando passano dalla stele donano questa borraccia di acqua in onore ricordo del ciclista. Quindi un omaggio, un ricordo a qualcuno che in quel momento naturalmente ha dato tanta passione e ci ha lasciato la vita. Certo, quindi questo si fa anche per dare evidentemente un'ulteriore visibilità al museo stesso che ne ha sempre bisogno. E a tal proposito, Antonio, con te parliamo non solo di ciclismo ma anche di cicloturismo perché un'altra delle tue mission, chiamiamole così, è anche quella di promuovere il territorio lariano proprio grazie a questa tua passione, è vero? Sì, diciamo subito dopo il lockdown ho sentito in modo forte, in maniera molto forte, la necessità e il bisogno di recuperare quella nostra libertà che di fatto c'era stata negata. Per cui ho voluto ripercorrere il territorio lariano, quindi il triangolo lariano in lungo e in largo, ma in generale tutto il nostro contesto lombardo per cercare di dare visibilità e per cercare di mostrare quelle che sono le nostre bellezze che abbiamo poi come turismo di prossimità. Ho percorso il Gran Trittico Lombardo circa 200 chilometri, partendo da Saronno, Legnano, passando per Varese, Como, Labrianza, eccetera, arrivando a Lissone, proprio per ripercorrere quel circuito che va a toccare la Lombardia lavorativa, lavorante se vogliamo, quindi le aziende, il Made in Italy, che era una delle cose che in quel momento e l'anno scorso tutti portavano un po' a cuore e a cui bisognava fare... E che erano in sofferenza, quindi bisognava comunque sostenerli, almeno con questo omaggio sportivo che sicuramente tu hai saputo trasformare anche in fatti. Ci ho provato, ecco. Ci sei riuscito molto bene, ma altri fatti importanti ti riguardano, perché tu hai portato oggi qui in studio delle magliette che sono vicine a te, ora verranno inquadrate, e che riportano molto chiaramente la scritta no doping. Perché? In che occasione hai voluto indossarle? Qual è il significato? Sì, allora, di concerto con Walter Pettinati, che è un amico, un ex ciclista professionista, che ha ideato questa maglia, quindi questo simbolo, alla fine. abbiamo pensato di percorrere il giro delle province lombarde, quindi partendo da Milano, Piazza Castello, andando a toccare le province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Bergamo, per poi ritornare ancora a Milano, quindi in zona Piazza Duomo, che era un po' il terrazzo giusto, ideale, la vetrina, per poter mostrare questa maglia. abbiamo cercato e ho cercato di dare un messaggio importante per promuovere quello che è innanzitutto il ciclismo, ma un ciclismo etico, pulito, e appunto doping free, che secondo me, soprattutto per i giovani, è un messaggio importante. Che deve arrivare molto chiaramente. Tra le altre cose, Antonio, durante la scorsa estate, tu hai strappato, tra i vari risultati, anche un brevetto. Sì. È vero? È vero, sì. A cosa si riferisce? Si riferisce al brevetto del Ghisallo. Allora, ho saputo di questa iniziativa, a dire la verità, ad estate inoltrata. Emanuele Marconi ha progettato e creato questo evento. Si tratta di fatto di una pedalata cicloturistica, se vogliamo, perché non c'è bisogno di fare il tempo, non c'è nessun tipo di paletto, ecco, se non quello di percorrere un circuito. In realtà sono tre. Io ho conquistato il brevetto d'oro del Ghisallo, che è riferito al circuito più impegnativo. sono circa 130 chilometri, con 3.000 metri di dislivello, salendo su e giù per il Sacro Colle del Ghisallo, evidentemente, perché ce l'abbiamo qua, Nesso, Sormano e tutta questa zona, appunto, Lecco arrivando da Onno, per dare visibilità ancora una volta al nostro territorio. Ecco, io ho sposato questa causa, questo progetto, proprio perché dava visibilità al territorio del Triangolo Lariano, che secondo me è eccezionale. Noi siamo molto fortunati ad averlo qua vicino e ce lo invidano un po' da tutto il mondo, gli americani, eccetera, vengono a prendere casa da noi. Anche per questa ragione. E come no, è infatti. Anche per questa ragione. Per cui non vedo perché non valorizzarlo, no? E allora si è pensato di fare questo, ho pensato di metterci la mia faccia e di dare un aiuto a questo brevetto, che poi chiaramente ha preso piede e ho visto che è stato, diciamo, portato a termine da parecchi ciclisti, alcuni con il percorso più corto, quindi col brevetto di bronzo, alcuni quello medio, con meno chilometraggio e meno dislivello con il brevetto d'argento, ma comunque è un percorso aperto a quasi tutti i ciclisti. Insomma, quasi tutti si fa per dire. Anche perché proprio mi dai l'occasione per sottolineare che negli ultimi tempi in effetti il cicloturismo si è molto diffuso, c'è una grande passione, tu lo dici bene, qui ci sono dei territori che sono perfetti proprio per uscire e fare, praticare questo sport, ma secondo te c'è anche altro che ha fatto scoppiare questo amore e questa passione? Sì, penso di sì. Questo è un mio pensiero, ripeto. Il lockdown ha fatto cambiare un po' il modo di pensare delle persone, a me per primo. Quindi, come si diceva prima, la libertà sembra una cosa talmente evidente, talmente quotidiana, che quando non c'è ci accorgiamo che invece è un bene preziosissimo. Quindi, secondo me, le persone in generale si sono accorte di questo e quindi hanno ricercato l'aria aperta, il contatto con la natura e quindi cosa meglio della bicicletta e per l'ambiente, dico a favore dell'ambiente, può aiutare... E può rappresentare molto bene tutto questo. Esatto. Antonio, il nostro tempo, ahimè, è terminato. Io avrei ancora molte cose da chiederti, ma so che avremo altre occasioni e quindi ci rivedremo sicuramente per continuare a chiacchierare di tutto questo. a disposizione. Per ora io ti ringrazio moltissimo, grazie anche per questi risultati che hai conquistato e che hai voluto raccontare e condividere con me e con gli amici a casa qui ad Angoli. Grazie ad Antonio Cortese. Grazie mille, ciao. Grazie anche a voi, rimanete lì, Angoli continua tra poco. Grazie a tutti.